NOVEMBRE MESI DEDICATO ALLE ANIME DE DEFUNTI 24 NOVEMBRE L'ESATTEZZA ORAZIONE A GESÙ CRUCIFISSO DA RECITARE TUTTO IL MESE DI NOVEMBRE Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo AMEN Eccomi, o mio amato e buon Gesù, che alla Santissima tua presenza, prostrato, ti prego, col fervore più vivo, di stampare nel mio cuore sentimenti di fede, di speranza, di carità e di dolore dei miei peccati e di proponimento di non più offenderti, Mentre io, con tutto l'amore e con tutta la compassione, vado considerando le tue cinque piaghe, cominciando da ciò che disse di te, o Gesù mio, il santo profeta Davide, hanno trafitto le mie mani e i miei piedi, hanno contato tutte le mie ossa. Chi dopo la comunione reciterà con cuore contrito e con spirito di devozione la predetta orazione, dinanzi a qualunque immagine di Gesù Crucifisso, pregandolo per i bisogni della Santa Chiesa, potrà conseguire l'indulgenza plenaria. Santo Protettore Tutti i Santi Santa Caterina Vergine e Martire Oppure Sant'Andrea Apostolo Sia fatta, lodata, in eterna esaltata la giustissima, altissima e amabilissima volontà di Dio in tutte le cose Firtù da praticare La pazienza 24 novembre L'esattezza L'inesattezza Non sei tu, forse, tra quelli che credono di avere sempre tempo per migliorare? La preghiera, il lavoro, il dovere, l'ordine, se non si traslidiscono, Spesso Sono sempre fatte a metà La persona inesatta Non disobbedisca, ma fa le cose con noia, non risponde, ma dimostra fastidio. Non cadrà in disordini gravi, ma in vano potrai trovare in Lui la diligenza e il fervore. Che gli importa di non essere il primo, che cosa gli interessa di non essere santo, purché non sia dannato? Non è forse per te questo quadro? Da dove proviene l'inesattezza? Perché, se lo facessi per disprezzo, non andresti esente da qualche peccato? Ma forse lo fai per indolenza, per schivare la fatica, perché ti manca la mortificazione. E non è forse tutto ciò un grave difetto? Non sarà un cattivo esempio per chi ti vede? Non sarà un principio di tiepidezza per l'anima tua? Non riuscirai di nausea agli uomini, e più ancora a Dio? L'esattezza Questa è la virtù dei Santi È davvero un gran buon esempio vedere una persona esatta e regolata in tutto Fa piacere osservarla Perché tu non sai imitarla? San Vincenzo dei Paoli commuoveva al solo vederlo celebrare la Santa Messa San Francesco di Sal anche in camera sua stava composto come in pubblico Fare tutto bene fu il distintivo di Gesù Bene Omnia fecit I mezzi per ottenere l'esattezza sono Primo Un santo timore della presenza di Dio Secondo Persuadersi che non vi è nulla di piccolo innanzi a Dio E tu ti impegnerai d'ora in poi nel praticarla? Pratica del giorno Fa oggi tutto esattamente Recita un atto di contrizione per le negligenze passate Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Amen Aiutaci a diffondere la preghiera Iscriviti al nostro canale e attiva la campanella per ricevere le preghiere pubblicate Fai il passaparola con i tuoi amici su Facebook ed altri social Ti ringraziamo e che il Signore ti benedica e che il Signore ti benedica e che il Signore ti benedica